Strategia, un termine molto utilizzato, anche più in questo momento storico particolare. Partiamo da cosa dice Wikipedia rispetto alla parola strategia. Lo definisce un piano di azione di lungo periodo volto a impostare, coordinare una sequenzialità di attività al fine di raggiungere un obiettivo ben definito. Prima questione, definiamo l'obiettivo. È la parte fondamentale di questo processo. Dall'altra mi permetto di condividere quattro aspetti che teniamo sempre in considerazione nella definizione di una strategia. Concretezza, misurabilità, coinvolgimento e motivazione. Questi quattro elementi, se uniti e messi in fila nel modo giusto, fanno la differenza nell'applicazione.